Brusca impennata di casi positivi al Covid-19 in Abruzzo, sono 122 in più rispetto a mercoledì sera, arrivando così a toccare quota 385, il dato più alto mai rilevato. 181 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 123 in provincia di Pescara, 19 in provincia di L'Aquila, 11 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. 47 sono in terapia intensiva, distribuiti 4 in provincia di L'Aquila, 10 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo, mentre gli altri 144 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 74 in provincia di Pescara, 47 in quella di Teramo, 21 in quella di Chieti e 2 in provincia di L'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 11 pazienti deceduti, due uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo di Pianella, una donna di Casoli, due uomini di Castiglione e Messerraimondo, un uomo di Chieti, uno di Città Sant'Angelo e una donna di Guglionesi in Molise. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse. Sei pazienti clinicamente guariti che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. Due guariti che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 2.409 test, di cui 1.395 sono risultati negativi. Dei casi positivi, 223 si riferiscono alla ASL di Pescara, 69 a quella Lanciano-Vastochietti, 68 a quella di Teramo e 25 alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila.